Lo Stato c'è e la loro fiazza. Lo Stato c'è e probabilmente per quelli che sono le risorse abbiamo dato dei rinforzi. E' un contesto di criticità più ampio che riguarda tutta la provincia della società. Protestano gli agenti della polizia penitenziaria, chiedono degli alloggi in condizioni migliori. Non abbiamo acqua calda, non abbiamo... Abbiamo il sistema valore. Non abbiamo partire dove esegnerci per cambiarci. La polizia hanno speso, cioè ci dobbiamo sbaccare che è la polizia delle pavere.